La CNU ospita un personaggio molto 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 chiacchierato in questi giorni che è Claudio Monti Cuscassino, giusto? Sì. Puoi dirci per favore la tua data di nascita? 5.1.85 5.1.85 Quale facoltà sei iscritta? All'Università degli Studi di Cassino Quale facoltà? Faccio un'azienda di nascita Perfetto, quindi possiamo smentire ufficialmente tutte le proteste, i ricorsi che ci sono stati contro il CUS Siena? C'ho tanto di documento e oggi lo prendo e lo porto, così evitiamo ogni problema Quindi sei disposta a farci vedere il tuo documento ufficiale e mettiamo a tacere questa polemica sterile che le ragazze del Siena hanno montato dicendo che tu sei del 1984 Ci confermi? Confermo Sei nata il? Il 1985 Il giorno? 5.1.85 5.1.85 Quindi non c'è nessuno illecito, è tutto trasparente? Non c'è niente oggi, spero di risolvere a meno che non esce qualcos'altro Va bene, ti ringrazio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti